Musica Importante operazione antidroga messo a segno questa mattina dai carabinieri di Piazza Dante a Catania Smantellato un supermarket della droga nel popoloso quartiere di San Cristoforo, arrestate 29 persone Lettera al prefetto dei lavoratori del call center QE chiesto un intervento per spezzare il muro di silenzio tornato a calare sulla loro vicenda A Paternò rischia di far esplodere il bilancio la questione dei doposcuolisti Per 10 dipendenti una sentenza passata in giudicato condanne il comune a risarcire oltre un milione e mezzo di euro che i dipendenti non vogliono dilazionati Rigettata la proposta del comune di pagare in 4 anni Non ci sono fondi disponibili quest'anno per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara e la Giunta insieme al Consiglio si autotassano Cosa ne pensano i cittadini? Lo abbiamo chiesto a loro in un sondaggio L'inviato delle Iene Giulio Golia questa mattina ad Adrano ha incontrato l'ex maresciallo dei carabinieri Nicolo Moschitta per affrontare un argomento legato ad una sua indagine sul traffico internazionale di rifiuti radioattivi Firmato nei giorni scorsi un accordo tra il sindaco Mauro Mangano e nove consiglieri di maggioranza per rilanciare la politica comunale Le decisioni dovranno essere concordate con la base Rosario Crocetta si candiderà alle prossime elezioni regionali per la carica di presidente Il governatore ha annunciato anche che inviterà in Sicilia il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump Buonasera da Ciac News, apriamo questa edizione con un'importante operazione antidroga Messa segno questa mattina dai carabinieri di Piazza Dante a Catania Smantellato un vero e proprio supermarket della droga nel popoloso quartiere di San Cristoforo I carabinieri hanno arrestato 29 persone Il servizio Importante operazione antidroga messa a segno alle prime luci dell'alba di questa mattina Dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante a Catania Smantellato un autentico supermarket della droga che si trovava nello storico quartiere di San Cristoforo a Catania In tutto sono 29 le persone arrestate dai militari dell'arma Che hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dal GIP su richiesta della locale procura Etnea Sette degli arrestati di oggi erano già detenuti in carcero ai domiciliari per altre cause Un'indagine è durata 5 mesi in tutto dall'ottobre del 2014 al marzo del 2015 Quella condotta dai carabinieri Etnei I quali per smantellare il gruppo criminale appartenente alla famiglia De Nizza Si sono avvalsi anche delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia L'operazione è stata ribattezzata Polaris dal nome dell'arteria del quartiere di San Cristoforo Via Stella Polare per l'appunto dove avveniva lo spaccio della sostanza stupefacente In particolare di marijuana e cocaina 200 in tutto i carabinieri coinvolti nel blitz di questa mattina Cendo circa le perquisizioni effettuate Gli arrestati dovranno adesso rispondere dell'accusa di associazione a delinquere Finalizzata al traffico di cocaina e marijuana Secondo gli investigatori il giro di affari era particolarmente redditizio I guadagni giornalieri con lo spaccio della droga ammontavano a circa 10.000 euro Abbiamo elementi oggettivi per dire che a premere il pulsante Che fece deflagrare l'autobomba in via D'Amelio fu Giuseppe Graviano E che questo fosse appostato nel giardino dietro un muretto Che si trova nella stessa via Lo ha detto il pubblico ministero Stefano Luciani Durante la requisitoria nel quarto processo per l'attentato del 19 luglio 1992 Costato la vita a Paolo Borsellino e a 5 agenti della sua scorta E torniamo a parlare di lavoro Torniamo a parlare di call center Lettera al prefetto dei lavoratori del QE Chiesto al prefetto un intervento per spezzare il muro del silenzio Tornato a calare sulla loro vicenda Ci spiega tutto Meri Sottile Una lunga lettera inviata al prefetto di Catania Maria Guia Federico Che rappresenta un nuovo grido d'allarme Una richiesta d'aiuto per chi rischia di non avere più voce Tanto ha disperatamente lottato A prendere carta e penna è Valentina Borzi Lavoratrice RSU del call center QE di Paternò Da dipendente tenta di squarciare il velo di silenzio Tornato a calare sull'intera vicenda Con 600 lavoratori circa da mesi senza stipendio Con ancora un lavoro ma senza sede operativa Dunque impossibilitati concretamente a lavorare Dopo il tavolo tecnico alla regione siciliana Con passi concreti che sembrava si stessero compiendo Non si è più saputo nulla Si attende il tavolo al Ministero per lo sviluppo economico Che sull'argomento call center Sembra avere orecchie solo per Alma Viva Come se vi fossero operatori di serie A e operatori di serie B Da qui la decisione di scrivere al prefetto di Catania Maria Guia Federico Rimasti nel limbo senza stipendi e senza ammortizzatori sociali Si legge nella lettera di Valentina Borzi Ci definiamo lavoratori senza lavoro Nel nostro caso significa non avere i soldi per comprare beni di prima necessità Significa non avere i soldi per comprare medicine in caso di necessità Negando così il diritto alla salute Significa non poter comprare libri di scuola ai propri figli Significa non poter pagare tasse universitari E bolletti, assicurazioni, mutui, affitti, finanziari e cessioni del quinto Significa vivere nella miseria I dipendenti del QE, scrive ancora Valentina Borzi Vivono da sei mesi come esiliati E intanto sale a 38 il numero dei dipendenti Costretti a dare le dimissioni per giusta causa per attingere alla Naspi Da sommare alle dimissioni di massa di quasi la totalità dei collaboratori a progetto Non c'è più tempo da perdere Siamo al collasso economico Le nostre battaglie le abbiamo fatte Un suo intervento, conclude la lettera di Valentina Borzi Può anticipare tutti i tempi burocratici E restiamo a paternò La questione dei doposcolisti Sembra far scoppiare il bilancio di previsione 2016 Per dieci dipendenti Una sentenza passata in giudicato Condanna il comune paternese a risarcire oltre un milione e mezzo di euro Che i dipendenti non vogliono dilazionati Rigettata la proposta del comune che aveva chiesto di pagare in quattro anni Sentiamo i dettagli Tagli è stata la parola d'ordine di questo bilancio di previsione Per il comune paternese Pronto per essere approvato dall'Aggiunta Con l'ultima parola per l'adozione Affidata poi al Consiglio Comunale Un'assise civica e molti suoi componenti insoddisfatta Che accusa l'amministrazione di un risultato disastroso Per una mancata programmazione Per interventi fallimentari sul campo delle entrate Scese drasticamente Il sindaco si difende Ed evidenzia che sarebbe stato tutto diverso Se l'addizionale IRPEF non fosse stata dimezzata Con l'aliquota portata allo 0,4 per mille E se la rinegoziazione dei mutui fosse stata approvata dall'assise civica Con un risparmio solo per quest'anno di 350.000 euro A tutto questo bisogna aggiungere le somme da sborsare Per sentenze passate in giudicato Tra queste quella relativa ai 10 doposcolisti Dipendenti comunali da anni Pagati con fondi della provincia regionale di Catania Che hanno vinto la causa innescata contro lente Per loro l'assunzione a carico dell'ente comunale Che deve essere immediata Ma anche il rimborso degli arretrati di stipendio Ammontante a circa 800.000 euro Qui bisogna aggiungere oltre 700.000 euro Di contribuzione da versare all'Inps Complessivamente per il comune Una spesa di oltre un milione e mezzo di euro Che il sindaco afferma Non si può pagare con questo bilancio Da qui la proposta del primo cittadino Ai lavoratori di una rateizzazione del debito Una proposta però al momento rifiutata dai dipendenti Il rischio di sesto è sempre vicino Si tratta di una condanna al comune di Paternò A pagare 800.000 euro di arretrati 10 dipendenti Più quasi la stessa somma Più di 700.000 euro Di versamenti contributivi all'Inps Abbiamo chiesto la rateizzazione Ai 10 ma ad oggi c'è stato risposto un diniego Per cui la sentenza li autorizza A chiedere immediatamente il pagamento di questa somma E' anche stato nominato un commissario Noi abbiamo ribadito e lo facciamo Stiamo facendo anche con le delibere Che approviamo in questi giorni Che riguardano il bilancio Che è assolutamente materialmente impossibile Per il comune di Paternò Pagare questi soldi Ma proprio perché non riusciremo Non a fare la festa Che non ci riusciamo a pagare i soldi Per la festa di Santa Barbara Ma nemmeno davvero a pagare la luce O a pagare i dipendenti 800.000 euro in un bilancio In cui negli ultimi tre anni Siamo riusciti a tagliare 2 milioni di euro di spese Cioè noi abbiamo portato Dal 2013 al 2015 Il bilancio del comune di Paternò Da 29 milioni di rotti A 27 e qualcosa Quindi capite che non c'è proprio più dove tagliare E questa realizzazione è indispensabile per poter sopravvivere Sono stati rilasciati dalle autorità egiziane I due pescherecci di Mazzara del Ballo Sequestrati la notte scorsa Dalla marina militare egiziana E sono partiti Dalla porto di Alessandria La notizia appresa dall'Ansa Da fonti ben informate al Cairo E' stata confermata dall'armatore Domenico Asero I passeggeri e i lavoratori all'interno dei peschereggi Sono tutti salvi Torniamo a Paternò E torniamo a parlare della festa di Santa Barbara Ormai lo sapete Una festa leggera Diciamo ovviamente dal punto di vista delle economie Ebbene economie che saranno in qualche modo sostanziate Anche dalle offerte già annunciate Dalla giunta comunale Da numerosi consiglieri comunali Proprio questa mattina siamo stati in strada Tra le vie di Paternò Per chiedere ai paternesi Cosa ne pensino di questa nuova edizione della festa Vediamo cosa ci hanno risposto Giro di vite sui finanziamenti Quest'anno in occasione degli imminenti festeggiamenti di Santa Barbara Un taglio netto Solo 52 mila euro A fronte dei 170 mila dello scorso anno Non ci sono soldi in bilancio Infatti non ci sono soldi quest'anno Da destinare ai festeggiamenti Perciò verranno utilizzati 22 mila euro Derivanti dai fondi dell'anno scorso Mentre altri 30 mila saranno il frutto di un'autotassazione Dei componenti dell'aggiunta e del consiglio comunale Le fasi più importanti della tradizionale ricorrenza Saranno comunque conservate Mentre saranno ridotti i botti E qualche altro aspetto di cornice I cerei ad esempio non usciranno il giorno 2 Ma apriranno le processioni del 4 e del 5 Ma la gente del paese come la pensa? Cosa si aspetta dalla ricorrenza più tradizionale Cara ai paternesi? Che concetto ha della religione e della gestione dei finanziamenti in simili occasioni? Siamo andati a chiederlo ai cittadini che hanno espresso la loro opinione Nel complesso pare emerga l'approvazione verso il concetto di taglio In situazioni di crisi economica Così come in più casi si evidenzia la volontà di fermarsi All'aspetto religioso centrale e sostanziale dell'evento Santa Barbara Ma non penso che sia una cosa male Guarda tutte quelle bombe per me Sì è giusto fare festeggiare perché la padrona di Paternò Però per me tutte quelle bombe sono soldi sprecati Bene, questo è l'orientamento di quest'anno Quindi lei è contenta? Sì È giusto festeggiare perché Santa Barbara è la padrona del paese Però sicuramente le bombe erano troppe Non credo proprio che stanno mettendo soldi di propria tasca E vabbè oltretutto c'è la crisi come si dice E quindi ci dobbiamo adeguare L'importante è che si festeggi, che ci sia la festa Comunque si vada avanti La festa qua a Paternò è molto sentita Quindi molti cittadini sono delusi da questa amministrazione Per il comportamento che è Soprattutto perché noi per Santa Barbara siamo molto ma molto fedeli E poi anche i festeggiamenti sono una cosa molto bella Caratteristica per il paese di Paternò Tante persone che vengono dalla Germania, da Milano, da fuori Perché vengono a vedere la festa di Paternò Quindi per me è stato uno sbaglio Non sanno progettare, praticamente non hanno saputo progettare Per fare arrivare fondi, per fare la festa come a dovere Comunque la festa sarà fatta Buona parte di tutte le fasi dei festeggiamenti saranno comunque fatti Solo che quest'anno si spenderà di meno E questi soldi sono stati stanziati proprio di tasca, anzi proprio dal comune Questa è una cosa che gli fa onore praticamente Però sempre si deve fare la festa Si deve organizzare meglio prima E si devono mettere più fondi Perché questa festa sta andando da molto tempo Sta andando sempre più indietro Quindi i cittadini di Paternò non si meritano a questo Quindi vogliono una bella festa Bella, particolare Come ci meritiamo noi? Vista la crisi che c'è, se qua la festa diciamo in chiesa come di dovere Più che altro il folclore delle candelore, delle cose Purtroppo se siamo stretti, li siamo stretti un po' tutti Se la fanno bella come era una volta, meglio ancora Ma se non la possono fare ci accontentiamo gli esargamenti che c'è dalla chiesa Che la chiesa non la passeggiata Veramente dopo tanti anni è la prima volta che sento dire una cosa del genere Penso che il comune sia deciso così se non ci sono finanziamenti Non sono d'accordo con queste feste, mi dispiace Sono una cristiana e penso che questi soldi devono essere impiegati per cose molto più utili Che solo festeggiare queste feste tradizionali La penso così, devo dire la verità Lei comunque è una cristiana Una cristiana radicale Radicale, sì Non sono d'accordo con spendere tanti soldi per cose che per me sono inutili Perché la santa è vissuta sulla terra, va bene Però adesso è in un luogo di riposo E spendere questi soldi per fare queste feste così Quando c'è tanto bisogno in mezzo all'umanità di aiutare il prossimo So che ci sono tante persone che soffrono, sono senza lavoro Come anche noi siamo partiti adesso per lavoro E quindi siamo all'estero, sono venuta adesso in vacanza E penso che i soldi si devono spendere per cose molto più utili Aiutare il prossimo, aiutare le persone che si trovano nel bisogno, senza lavoro E poi la santa la ricordiamo nei nostri cuori per quello che ha fatto Non posso credere che i grillini sono a Paternò Non ci sono grillini a Paternò È impossibile sta cosa Non ci credo proprio che si sono autotassati Lei come la vede la festa di Santa Barbara? Io la vedo bella la festa di Santa Barbara Perché è la festa della padrona di Paternò È una festa bellissima Gli anni passati è stata sempre bella Con l'andare del tempo purtroppo la Cipital ci ha portato a questo Di non essere più tradizionalisti Secondo lei non basta partecipare alle funzioni religiose? Basterebbe sì Ma diamogli anche lo spunto ai giovani di poter venire alla chiesa pure Anche con queste fiaccolate, con queste feste diciamo Ho visto la crisi che c'è, che la gente sta morendo di fame È meglio aiutare un po' di famiglie a queste feste Secondo il mio punto di vista Mi scusa, hai detto che li stanno mettendo i consiglieri comunali? Eh già sarebbe una cosa buona Di attasca loro? Vi state civilizzando State vedendo le differenze Prima di voi tanti e tanti ci hanno mangiato bene con la festa Poi mi chiedo sempre una cosa Ma se è una festa religiosa Perché lo Stato, noi dobbiamo pagare la festa? Se io per esempio non sono cattolico Perché devo pagare una festa cattolica? Le feste anche i cittadini dovrebbero pagarla di tasca loro E si dovrebbe fare una festa più spirituale Anziché una festa, si va in chiesa, si prega Anziché qualcosa che appaga solo l'ego Tutte quelle bombe che ogni anno si spregono tutti quei soldi Non andrebbero fatti uno spreco Per Dio, per la Santa Non ci vogliono queste cose Facciamo opere, c'è tanta gente che soffre Grazie preti, grazie gente E vabbè, soprattutto curare l'aspetto religioso della festa Che è un momento di riflessione Per chi la vive, per chi la organizza E soprattutto sedimentare l'apparire E l'essere vicino alle necessità Soprattutto di riflessione, che è importante E con queste immagini si ferma il nostro telegiornale per qualche minuto Chuck News riprende, subito dopo Idea Brico Paternò è lieta di annunciarvi l'apertura del nuovo showroom Spazio Casa 500 metri quadri dedicati ad arredare risparmiando ogni spazio della tua casa Cucina a metri 360 completa di elettrodomestici Con frigo maxi piano cottura 5 fuochi da 70 e con lava stoviglie 1690 euro Cameretta a ponte colore avorio decapata con doppio letto estraibile 590 euro Divano con penisola convertibile in letto matrimoniale 390 euro Divano terri ecopelle colore grigio 3 più 2 390 euro Divano clara ecopelle colore beige 3 più 2 450 euro Cameretta a ponte moderna colori assortiti con doppio letto estraibile 390 euro Tutto in pronta consegna fino ad esaurimento scorte Personale qualificato ti accompagnerà nelle varie fasi Dalla progettazione al finanziamento e infine al montaggio Ci trovate in via Emanuele Bellia 265 Paternò Seguici su Facebook Idea Brico Paternò Spazio Casa Un negozio veramente mobiloso E rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale Un appuntamento per la prossima settimana ed esattamente per giovedì 17 novembre Quando sarà inaugurato a Palazzo Alessi il primo punto di informazione ed accoglienza turistica di Paternò Il punto sarà realizzato in collaborazione con la locale sede della Proloco E l'inviato delle Iene Giulio Golia questa mattina ad Adrano ha incontrato l'ex maresciallo dei carabinieri Nicolo Moschitta Per affrontare un argomento legato ad una sua indagine sul traffico internazionale di rifiuti radioattivi Giulio Golia è stato intercettato questa mattina da Salvo Sidoti che lo ha intervistato per noi Blizza sorpresa questa mattina ad Adrano di una truppe delle Iene La trasmissione di Italia 1 è giunta in città intorno alle 10.30 con un cameraman Giulio Golia Dopo avere preso un caffè in un bar in Piazza Umberto e scattate alcuni selfie con dei cittadini Golia si è poi intrattenuto con alcune persone di Adrano per il servizio che sta registrando per la trasmissione che è andata in onda su Italia 1 Ma ai microfoni di TV Notizie Golia non ha voluto anticipare i contenuti del suo servizio Giulio allora un caffè ad Adrano perché le Iene ad Adrano puoi anticiparci qualcosa? Siamo venuti a fare un giro perché è una città bellissima, paesino bellissimo, città o paese? Un servizio su le Iene, su Adrano perché? È un mistero Il mistero lo abbiamo poi comunque scoperto, la truppe di Italia 1 ad Adrano oggi ha incontrato Nicolo Moschitta ex maresciallo dei carabinieri, Golia lo ha intervistato su un argomento che è stato oggetto di una indagine sulla quale il maresciallo Moschitta ha avuto un ruolo importante quando era in servizio nell'arma dei carabinieri ovvero un traffico internazionale di rifiuti radioattivi, argomento che comunque non riguarda il territorio di Adrano Ma le Iene questa mattina ad Adrano stavano per scivolare sul nuovo piano parcheggi Golia ha infatti parcheggiato la sua auto sulle strisce blu e quasi a ridosso delle strisce pedonali come ci hanno segnalato alcuni cittadini che avevano assistito alla scena e noi l'abbiamo segnalato a Golia Abbiamo visto la vostra macchina parcheggiata in centro, vi siete dimenticati il tagliando delle strisce blu? Subito, la vado a spostare Golia è tuttavia accolto il nostro invito, si è recato al parcometro, ha pagato regolarmente il tagliando per la sosta autorizzata ha allontanato l'auto dalle strisce pedonali e alla fine ha salutato con un mezzo sorriso Giusto che le regole vengono rispettate da tutti, soprattutto dalle Iene perché portano bene E ancora un altro appuntamento per la prossima settimana il 14 novembre A Paternò presso la chiesa del Santissimo Salvatore sarà celebrata una messa per ricordare la strage di Nasseria avvenuta il 12 novembre del 2003 alle 11.30 Ci sarà la deposizione di una corona di fiori in memoria dei caduti presso la targa commemorativa di piazza Nasseria Ed è stato firmato nei giorni scorsi un accordo tra il sindaco Mauro Mangano e nove consiglieri di maggioranza per rilanciare la politica comunale le decisioni dovranno essere concordate con la base Sentiamo di più nel servizio Rilanciare l'azione amministrativa partendo dalla condivisione dell'agenda politica con i consiglieri comunali di maggioranza Detta così, quella di condividere un programma sembrerebbe una regola scontata della politica ed invece per la giunta Mangano potrebbe rappresentare l'assoluta novità L'idea è di iniziare un confronto preventivo tra giunta e consiglieri di maggioranza in modo che le scelte amministrative possano nascere da una base quanto più ampia e condivisa possibile L'iniziativa parte da una proposta avanzata dall'ex leader della democrazia cristiana Nino Lombardo È stato proprio Lombardo a sottoporre ai consiglieri un documento in cui gli stessi promettevano fedeltà al progetto Mangano a patto che il primo cittadino si impegnasse da subito a coinvolgere i consiglieri nelle scelte dell'amministrazione consultando il gruppo per individuarne le soluzioni Un metodo di politica condivisa la cui mancanza è stata spesso causa di frizioni ed allontanamenti dal progetto politico avviato nel 2012 A firmare il documento sono stati nove consiglieri comunali Calabro, Signorello, Arcoria, Campisano, Di Benedetto, Arena, Comis, Parisi e Cunzolo Sono questi consiglieri che rappresentano il punto fermo da cui far ripartire l'azione politica della giunta Mangano Per il sindaco si tratta di un assist fin troppo utile per non essere utilizzato al punto da definire la concertazione il miglior strumento per rispondere a chi della polemica ha fatto lo strumento cardine della prossima campagna elettorale E adesso il meteo, una perturbazione proveniente dal nord atlantico porterà nelle prossime ore piogge e venti forti sulle regioni centrali e meridionali Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di venerdì venti forti di burrasca su tutto il sud Italia, Sicilia compresa attesa inoltre temporali che localmente potranno essere molto intensi e accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento E adesso la politica regionale con Rosario Crocetta che oggi a Messina ha annunciato che si candiderà nuovamente alle prossime elezioni regionali per la carica di presidente Crocetta inoltre ha annunciato che inviterà in Sicilia anche il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump Sentiamo Rosario Crocetta si candiderà alle prossime elezioni regionali per la carica di presidente E' stato lo stesso governatore ad annunciare le sue intenzioni alla stampa quest'oggi a Messina a margine di un dibattito aperto sull'autonomia dell'autorità portuale Ho già detto che sono candidato di nuovo a presidente della regione, ha affermato Crocetta Qualcuno mi dovrebbe spiegare come nelle condizioni in cui ho trovato la regione si poteva fare di meglio Se me lo dimostrerà sarò disponibile a rivedere la mia candidatura L'intervento di Crocetta scende nel dettaglio ed affronta i temi della politica siciliana Il bilancio che era in perdita prosegue Crocetta, adesso è in pareggio L'indebitamento era terrificante, c'era una sanità che era al penultimo posto in Italia e che adesso funziona meglio e si spende meno La formazione era quella del malaffare, abbiamo fatto una battaglia contro la corruzione Altro problema sollevato non poteva che essere quello dei rifiuti Ho trovato sui rifiuti un modello totalmente sbagliato, afferma il presidente della regione ma finalmente cominciamo ad ingranare A margine del confronto, Crocetta ha voluto dire la sua anche sulle ultime presidenziali americane Prevedevo l'elezione di Trump per due ragioni La prima è che la politica estera americana nell'ultimo decennio ha fatto errori madornali Basti pensare alla situazione che noi abbiamo nel Medio Oriente dove i jihadisti si sono rafforzati e danno addirittura dato origine ad una formazione terrificante come l'ISIS Crocetta ha annunciato inoltre di voler invitare Trump nell'isola per confermare i rapporti storici che legano gli Stati Uniti alla Sicilia Inviterò Trump in Sicilia perché noi siamo una regione che con l'America ha avuto rapporti tradizionalmente forti e abbiamo dato agli americani di più di quanto loro ci hanno dato E questa era l'ultima notizia per oggi Io vi ricordo come sempre l'appuntamento quotidiano con la nostra informazione Informazione che potrete trovare anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito internet www.ciactelesud.com A voi, un buon proseguimento di serata A voi, un buon proseguimento di serata